il numero di specie che hai documenti che hai documenti che hai documenti sto chiedendo documenti però è ingiusto capo un cazzo di cartellone non ho capito io qual è il motivo? non facciamo questo non si può mettiamo le malette mettete passi passi e viviamo i documenti ve lo sta dando ve lo sta dando ve lo sta dando il documento ve lo sta dando il documento ma cosa si può dimostrare ma avete finito i facci del mare avete finito i facci del mare io sono un operaio io sono un operaio io sono un operaio quasi sto fin che voglio avete capito? scapp prendete tutto è una signora guarda cosa fai che lo faccio facciare che lo faccio che ti stanno candidato che tu non mi presto Beli stanno da onde? Oltre a voi. Mamone! Voi bagnati! Voi bagnati! Sto facendo grazie. Sto facendo grazie Mamone! Sto venendo con voi! Sto venendo con voi! Sto facendo grazie! No! Sto di casa ora... Non è dipendendo il murale? No, 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 no. Come nò, no, no, no.